In prestito della Juventus giunge alla corte di Capuano Andrea Bonetti, classe 2003, figlio d'arte, figlio di Dario Bonetti, viene dalla next generation della Juventus in Serie C, ma anche dalla primavera. Insomma, per il Taranto un grosso colpo di mercato, soprattutto per il mister Capuano che andrà a piazzare lì in mezzo un giocatore di livello. Per me questa è una nuova esperienza, essendo arrivato dalla Juventus ho fatto praticamente quasi dieci anni lì, ho deciso di intraprendere questa nuova avventura perché secondo me può essere un trampolino molto importante per la mia carriera. Cosa ti ha detto mister Capuano al momento dell'ingaggio? Il mister all'inizio è sempre stato molto convincente nei miei confronti, mi ha dato molta disponibilità al lavoro, nella mia crescita soprattutto. So che comunque questa è una piazza molto importante per questo deciso di venire qua. Centrocapista centrale, un mediano, un playmaker come si dice adesso? Sì, inizialmente nasco un po' più avanti, un po' più trequartista attaccante, poi tre anni fa ho intrapreso questa nuova mia qualità da centrocampista. Penso che per me, per il mio futuro da calciatore sia molto importante questo cambio di ruolo. Diciamo